Ciao a tutti, sono l'impostore. Questo messaggio è rivolto a Fortesita, che ieri ha fatto il video che diceva che lui è più forte di me. Fortes, vedi la mia voce? Max Gamer Official. Perché non ci arrivi prima le cose? Bravo, è giusto. Ho rubato la tua voce con un macchinario che conosco solo io. E poi, l'ho trasmessa la tua voce nel mio corpo. Però, non solo così, posso parlare pure con la tua stessa voce identica. Sono stato io a volerla così. Sì, Fortes, tu non puoi paragonarmi con te. Io sono troppo potente. Tu riusciresti mai a prendere la voce di Max Gamer Official? Secondo me, non ci riesci neanche con il miglior macchinario del mondo. Non puoi paragonarmi a te. E comunque, anch'io so teletrasportarmi, non ci credi? Mi dispiace, ma non puoi paragonarmi a te. Torniamo di nuovo da dove sono venuto. Mi dispiace, non puoi paragonarmi a te. Io sono il miglior. Max, parlo con te. La tua città su Minecraft si chiama Austinville, giusto? Mi dispiace, non si chiamerà più Astonville. Si chiamerà Fantasmavilla. Grazie a me si chiamerà Fantasmavilla. Io sono l'impostore. Fortes, io sono più potente di te. Non puoi paragonarmi a te. Tu riesci pure a trasformarti in Super Saiyan. In Super Saiyan. Ma io, se voglio, potrei diventare un testinto. È solo che a me non interessa Dragon Ball. Perché Dragon Ball, Goku, sono buoni. Vegeta, Goku e tutti gli altri. Sono buoni. A me mi interessano i cattini. Quindi, viva Freezer! Ecco che è il mio personaggio preferito di Dragon Ball. Freezer! E anche gli altri, Black Goku. Viva la cattiveria! Io sono un anche cattivo. E mi piace il mio nome imbustare. Io sono l'ager più cattivo che esista. Di livello B! Non sono proprio un professionista professionista. Ma sono comunque di livello B! Voi non riuscirete a sconfiggermi così facilmente. Perché io sono più forte di voi. Adesso devo andare. Perché sta arrivando Max Gamer Official. Ciao! Stupide!